Musica Anche quest'anno c'è il Salone del Libro Io ci vengo tutti gli anni perché mi piace più di osare, trovare i libri Ma quest'anno una cosa in più C'è uno spazio di cucina dove gli chef cucinano per me Solo per me E sì perché fanno un piatto e lo posso assaggiare solo io Ma nel frattempo cerco dei libri Chissà se trovo qualcosa di originale per la mia cucina Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.